Sei solo un pezzo di vita, non lo sei? Lo sei? No, 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 non è vero. Sei un mucchio di pensieri, emozioni, idee, opinioni e pregiudizi in questo momento, non un pezzo di vita. Se stessi seduto qui semplicemente come un pezzo di vita, non come un uomo, una donna, questo, quello, non come un pensiero, un'emozione, solo come un pezzo di vita, questo riverberebbe naturalmente con il resto dell'esistenza. Al momento hai investito troppo in cose piccole, come guadagnarti da vivere, avere questo e quello e ti perdi ogni cosa. Oh, non dovrei avere questo? Non dovrei avere quello? Avere non è il problema. Aggrapparsi al problema, non è così? Avere non è il problema. Quello che hai diventi dopo qualche tempo. Vedi, supponi che questo sia il tuo recipiente, non lo è. Supponi che questo sia il tuo recipiente, diciamo che l'hai ereditato dal tuo bisnonno ed è fatto d'oro. Niente di tutto questo è vero adesso, ma supponi che sia così. Se devo ferirti, non devo venire a picchiarti, tutto quel che devo fare è questo. La vita se ne andrà. E ti sta accadendo. Forse non hai ereditato un recipiente d'oro dal tuo bisnonno, ma ogni piccola cosa che acquisisci prende la tua vita in qualche modo. Non è così? Tutte queste cose le abbiamo acquisite pensando che queste cose avrebbero migliorato la nostra vita. Abbiamo preso questi gadget perché pensavamo migliorerà la nostra vita. Adesso questo gadget è diventato una seccatura. Non possiamo tenerne le mani lontane. Facciamo satsang, messaggiamo qualcuno. Comunicazione, certo, ma non comunione. Una volta che sei venuto qui, non dovresti lasciare questo posto senza conoscere la piena profondità e dimensione di ciò che questa vita è. Non è così? Nessuno dovrebbe andarsene senza averlo conosciuto perché altre cose sono soggette realtà, varie. Non sappiamo se arriverai a correre i 100 metri in 8 secondi. Cosa? Non puoi farlo. Non sappiamo se scalerai il Monte Everest o no. Non sappiamo se guadagnerai un miliardo di dollari o no. Ma questo è possibile. Puoi esplorare la piena profondità e dimensione di ciò che questo è perché non ti serve il permesso di nessuno. Non ti serve nessun tipo di niente. Se hai la volontà è qui. Non è così? Puoi avere la volontà di scalare l'Everest, ma i tuoi polmoni possono non essere pronti. Le tue gambe possono non essere pronte. Con questo non è così. Non richiede alcuna capacità particolare. Non richiede alcuna situazione particolare. Solo la tua volontà. Ma, vedi, la tua volontà arriverà a te. Niente di sbagliato. Se avessi una vita che dura 10.000 anni, niente di sbagliato. Fortunatamente non ce l'hai. Perché se rimani in giro per 10.000 anni, che mondo infelice questo sarebbe? Non è così? Puoi pensare quello che vuoi. Ma è buono che tu sia arrivato con una data di scadenza. Non è buono? Hai notato? In un giorno particolare, quando sei molto gioioso, 24 ore, sono passate come un attimo. Sei infelice e depresso. Un giorno passa come un eone. Quindi, solo le persone infelici hanno una lunga vita. Le persone gioiose, anche se vivono fino a 100 anni, è troppo breve. Prima che tu sappia cosa sta succedendo, sarà finito. Davvero. Finisce troppo in fretta. Ma, se sei infelice, vivrai a lungo. Quindi, è una vita molto breve. E qualunque cosa è di fondamentale importanza per questa vita deve accadere al più presto. Non dopo domani. Non è così? Deve essere oggi. Il processo vitale non aspetta. Devi capire. La tua vita è solo una certa combinazione di tempo ed energia. L'energia la possiamo gestire. Il tempo non puoi gestirlo. Sta andando via. Non importa. Sei sveglio, stai dormendo. Sei ok, non sei ok. Sei felice, sei infelice. va, 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 va. Mentre sto parlando, sei due minuti più vicino alla tomba. Sì o no? Il tempo non lo puoi gestire. Semplicemente passa. Puoi solo gestire la tua energia. Puoi gestire la tua attività. Come fai uso del tempo? Puoi gestirlo. Ma non puoi gestire il tempo. Sta scorrendo via. Non è così? Quindi, se riconosci che la tua vita è solo una certa quantità di tempo ed energia, certamente investirai la tua energia in un modo che è il più significativo per questa vita. Non è così? ma se non lo capisci, se sei intenzionalmente dimentico della brevità della vita e vai in giro come se fossi eterno. Sì? Sei eterno. Non è vero? Quotidianamente non sei consapevole che la vita finirà per me. e potrebbe essere oggi. Non per essere terrorizzato. Solo per essere in sintonia con i fatti fondamentali della vita. Che è possibile che le nostre vite finiscano oggi. Non è così? Possibile? Non lo desideriamo. Non lo cerchiamo. Ma è possibile. Non è così? Se ti perdi questo, allora ti perderai tutta la tua vita. se non capisci che hai una data di scadenza non è nemmeno fissata come per un prodotto farmaceutico che hai altri due anni da vivere. Potrebbe essere praticamente in ogni momento. se ti perdi questo fatto fondamentale sei sicuro di perderti tutta la tua vita perché tutto ciò che è vitale sarà domani e domani non accade mai. C'è una certa superstizione nel sud dell'India. Forse c'è anche qui. in particolare nel Karnataka su tutte le case dei villaggi con la vernice rossa ci sarà scritto Nale Ba Nale Ba significa vieni domani. Lo scrivono con la vernice rossa perché i diavoli verranno volendo entrare in casa tua e possono solo vedere il rosso. Non lo sapevi? Siccome cercano il tuo sangue possono vedere solo il colore rosso quindi è dipinto con la vernice rossa Nale Ba il diavolo viene a casa tua e dice ok questa casa è per domani e se ne va. Ma il fatto è che la maggior parte degli esseri umani ha fatto questo non al diavolo ma al divino Nale Ba Se l'avessi fatto al diavolo andrebbe bene ma l'hai fatto al divino non è così? Domani Mediteremo domani? Sì? Quindi Conoscere la vita non è uno sforzo sovrumano Se smetti di essere qualche altra spazzatura e diventi semplicemente vita il che è ciò che sei conoscere la vita non è lontano è proprio qui quindi Questa è un'altra spazzatura è un'altra spazzatura